Dopo il rischio chiusura, le proteste dei genitori ed infine l'interessamento del ministro dell'istruzione Valeria Fedeli con una lettera di rassicurazione alle mamme e ai papà, l'asilo di Matrignano sembrerebbe blindato. Partiranno infatti a breve i lavori nella struttura, che termineranno in tempo utile affinché non ci siano disagi per la ripresa delle elezioni a settembre, a confermarlo è il vice sindaco di Arezzo Gianfrancesco Gamurrini. I lavori dovrebbero iniziare il 21 agosto, se non ricordo male, e terminare al piano dove c'è la scuola entro l'inizio del periodo scolastico, quindi entro l'inizio della scuola. Ci saranno ulteriori lavorazioni da fare al piano semi-interrato che probabilmente si prolungheranno un pochino nel tempo. In Matrignano si parla di circa 60.000 euro, l'investimento quindi non è importantissimo, gli interventi sono interventi se vogliamo anche minimi perché per un adeguamento strutturale in alcuni casi si tratta anche solo di tamponare delle finestre o di ridurre le luci sull'esterno in modo da aumentare la portata e il consolidamento della struttura portante. Il 15 settembre riaprirà? Il 15 settembre riaprirà.